Un marziano a teatro, sesta parte. All'epoca Streller era all'apice della carriera. Bastava il solo nome a riempire per mesi i più grandi teatri d'Italia con spettatori da tutta Europa. L'idea di fare uno stagio alla sua scuola per me era elettrizzante. Una sera a un tavolino del bar, mentre ciascuno leggeva, ripassava la parte e faceva le sue cose, Pietro Faiella ha notato che stavo imbustando il mio curriculum vitae e una foto. Anche Luigi e gli altri si sono avvicinati incuriositi, chiedendomi cosa stessi combinando. Sono aperte le iscrizioni per uno stage di un mese con la scuola di Streller. Avete visto? Sto preparando i documenti per la candidatura. Ho detto, come fosse ovvio, dando per scontato che qualsiasi attore avrebbe partecipato alla selezione. E secondo te si mettono a leggere il tuo curriculum? Ma chi ci conosce? Prima di noi c'è una sfilza di allievi della sua scuola e di professionisti che lavorano da anni con lui. E poi da quando gli attori si trovano con il curriculum? Potevi risparmiare le 5.000 lire della foto e così ce la bevevamo. Scherzavano bonariamente, sorpresi e persino un po' inteneriti dalla mia ingenuità. Per un attimo ho riso con loro, ma poi ho ripensato a quando tre anni prima, con il mio accento imbarazzante, mi ero presentato di fronte ad una commissione di 12 grandi del teatro per competere con 780 persone. Adesso perlomeno avevo un vantaggio, la mia dizione era pulita, a forza di ripetere esercizi specifici, per esempio leggere tenendo una matita tra i denti per ore. Come allora, anche stavolta puntavo al massimo. Non per presunzione, al contrario, sapevo di dover ancora imparare tutto e di avere bisogno dei migliori maestri. Ovviamente c'era una possibilità su un milione, ma era abbastanza per farmi chiudere quella busta e spedirla speranzoso.